Nell'ambito di un servizio di perlustrazione delle coste predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, i finanzieri della tenenza di Viestia e di San Nicandro Garganico hanno individuato a circa 15 metri dalla spiaggia di Calenella a San Menaio un gommone lungo circa 8 metri, munito di due potenti motori fuori bordo da 200 cavalli ciascuno, incagliato tra gli scogli, senza persone a bordo, ma carico di grossi involucri protetti da cellofan. Ritenendo pericoloso raggiungere il natante via mare per la presenza di scogli affioranti, gli uomini delle fiamme gialle hanno raggiunto il gommone entrando in acqua dalla spiaggia. Con l'aiuto di unità navali giunte da Manfredonia, il mezzo è stato recuperato con tutto il carico, 57 colli contenenti complessivamente 2 tonnellate e 200 kg di marijuana provenienti dall'Albania e destinati al mercato pugliese. L'ingente quantitativo di droga, al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 22 milioni di euro. Sono in corso ulteriori indagini in collaborazione con le autorità di polizia albanesi per individuare i responsabili del traffico illecito della sostanza stupefacente.